La regione, e lei l'ha molto sostenuta durante la campagna elettorale, avete festeggiato insieme, un ricordo è il futuro di questa regione e quale sarà? Oggi è il giorno del dolore, grande, abbiamo perso una donna coraggiosa, una donna che stava cambiando il volto della Calabria, il rammarico è di non aver potuto vedere gli effetti pieni della sua azione, che stava già dispiegando, un'immagine bella, colorata, di un'ansia e di una voglia di cambiamento che era già in itinera, perché già lo aveva avviato, oggi è il giorno del dolore, piange la Calabria, io personalmente piango un'amica. Ricordo da donna invece, Sindaco, se glielo possiamo chiedere. Una donna eccezionale, una donna straordinaria, dolcissima, un'amica, veramente sempre presente, sempre vicina nel momento del bisogno, nel momento della gioia, sempre vicina. Grazie.